Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Football Manager 2024 per proseguire la nostra avventura con il Monza Ti eravamo lasciati con la vittoria contro il Torino Poi le altre tre partite, quindi quelle contro Cagli, Sassuolo e Inter Sono andate a giocarle offline E quindi andiamo a vedere i gol di queste partite Due vittorie e una sconfitta Ovviamente una delle vittorie contro una squadra che non me l'aspettavo minimamente Vuoi dire quella contro l'Inter E fondamentalmente il più grande cambiamento in queste vittorie è stato nel portiere Perché Andreev, più volte vi ho detto e avete visto Quanto avesse dei problemini un pochino su uno contro uno e ti eravvicinati Ebbene, dalla partita contro il Cagliari ho schierato Sherpen E vedete un pochino qui le pagelle 8.2 6.2 contro Sassuolo Dove siamo stati sfigatissimi, già ve lo dico E poi contro l'Inter 7.4 Devo dire che non ho subito gol nell'uno contro uno Anzi a volte, soprattutto contro l'Inter Mi ha salvato un pochino le chiappette nei tiri avvicinati Quindi, che fare con Andreev? Io sto pensando a agire di conseguenza Nel senso che è un 2005 Un portiere che può crescere tantissimo Nel frattempo vi metto in background i gol delle varie partite Voglio vedere cosa fare con Andreev Perché io lo vorrei assolutamente tenere Un portiere che rappresenta il futuro della squadra Però allo stesso tempo voglio avere esperienza Io non so se fare Se optare per una cessione in prestito a fine anno O meglio, per l'inizio della prossima stagione E poi prendere un portiere più esperto Quindi, o confermare Sherpen O eventualmente, non lo so Prendere un vero titolare È l'unica cosa che bisogna avere sempre I money Anche perché io ho provato a vedere Le Qui è uscito infatti Un po' così Sherpen Però almeno è uscito Andreev no E dicevo Prendere un titolare Ma io ho visto anche tra Gli svincoli O meglio, i giocatori con il contatto in scadenza È veramente poca roba Cioè non c'è niente di interessante Poi bisogna vedere anche I soldi che ci daranno Per la prossima stagione Dove ci qualificheremo Poi andremo a vedere la classifica Dopo queste partite Quindi bisogna vedere i soldi che ci daranno Quanti saranno le spese E poi valutare Perché ripeto Io quell'1% Di Andarrivia da Monza Ce l'ho Perché se veramente Mi rendono la Prossima stagione impossibile A livello economico E da gestire più competizioni E ci dovesse essere Un'offerta importante Io onestamente Quell'1% Di possibilità Di andar via Ce l'ho E andiamo a vedere la classifica Anche perché noi siamo Quinti ora Siamo a meno 6 Dal primo posto Siamo Sì Distaccati un pochino Anche dal terzo Perché comunque Siamo a meno 4 Cioè giochiamo Fino all'ottavo posto Però ragazzi Se andiamo in Coppa A me questa cosa Un pochino preoccupa Se noi dovessimo andare in Coppa Sono cavoli amari Da un certo punto di vista Perché ripeto Non so Quante basi Concrete ci siano Per costruire una stagione D'Europa Campionato Coppa Italia Ora Guardando il calendario Andremo a vedere Sicuramente queste partite Atalanta e Roma Poi avevo pensato Di vedere Fiorentina E Napoli Le ultime tre Vediamo un pochino Se C'è Se la situazione Sarà interessante Da vivere assieme Oppure no Perché magari Potrebbero essere anche Potrebbero rivelarsi Partite Un po' inutili A fine della classifica Ma staremo a vedere Comunque ora Ho messo a punto A formazione Scendere in campo Contro Atalanta Cerper Birindelli Antov Hila Chiracopulos Castrovilli Kral Pessina Colpani Ingvarzen E Baldanzi Contro Sassuolo Noi abbiamo perso Una zero Devo dire che siamo stati Comunque sfigati A livello anche di formazione Perché In una sola Partita Diciamo così Abbiamo dovuto fare a meno Di Ingvarzen Se è un erro E mi pare di Pessina No Di Antov Quindi Un elemento importante Per difesa E un elemento importantissimo Per attacco Anche perché poi Noi siamo veramente Veramente Risicati Avevamo se non erano Anche gli azici Infortunato Già adesso non è In piena forma Quindi immaginate La formazione Meno Antov Meningvarsen E meno gli azici Ovviamente non avevo panchina E vediamo un pochino Comunque con Tata Tanto scenderemo Con questa formazione Ora andiamo a vedere La formazione Della Dea Gasperini Schiera Musso Jim City Vuios Scalvini Zortea Ederson Dendoncher Mario Rui Sabelotti Cambiaghi Brindelli Della remessa laterale Per Castrovilli Gira per Kral Uh che anticipa bene L'avversario Pessina Pali poco alta Mario Rui Punizione Della tre quarti Rindiamo noi Quanto meno Scalvini Per Mario Rui Gol Della domenica Per Mario Rui Oh no Che sfiga Raga Che sfiga Madornale Paloschina Di Scherpen Gol Brindelli Della rimessa laterale Per Castrovilli Verso il fondo Castrovillino Per Colpani Palla però E spinta male Da difesa Atalantina Chiri Copulos Che sbaglia In mezzo Uh Paladin Varsen Ma Palla nelle maie Di musso E questa volta Siamo stati Molto sfigati E Sono deluso Dal fatto che Abbiamo metto Pochi in porta Sfigatini Ragazzi io vado In cambio modulo E Passo 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 Allora Togliamo Castrovilli Come sta facendo 6.30 Allora tolgo Castrovillino Mi dispiace Però Con un pessina Munito Ma Mi serve Mi servono giocatori Che giochino In un modo Discreto Quindi Tolgo Castrovilli E metto I Vignato Poi In Varsen Lo lascio dentro Sì per ora Lo lascio dentro Qui non si cavo Rai dal buco Allora Tolgo Birindelli E metto Terracciano Poi Tolgo In Varsen E metto Esposito E Tolgo Baldanzi E metto Suslov Che anche lui sto Giocando malino Ragazzi io qui Devo andare Non so se con un cambio modulo Ma chi metto Non ho giocatori Per fare il cambio modulo Però posso fare così Allora Pessina sta crepando in campo E metto Colpani al suo posto Poi Faccio così Metto Metto Vignato Seconda punta E al posto di Pessina Metto Yazici Sortea da rimessa Palla però Mario Chila Di allora Di allora con Chiazici Troveremo il gol Con questa formazione Offensiva Chiazici Bella palla Per Esposito E batte Musso 1-1 All'ottantasettesimo Dai ragazzi che ce la possiamo fare Mario Chila Per Kiriakopoulos Bella per Suslov Suslov In mezzo Per Esposito Ottantottesimo Francesco più Esposito La ribalta E siamo in vantaggio Per 2-1 Oh ragazzi Testa Anzi vi dico anche una roba E a questo punto Abbasso gli esterni Vado in equilibrata E me la gioco così Musso Non buttiamo via tutto Raga Non buttiamo via tutto Che l'avremmo meritata Questa Vittoria E vai Antov Kral Colpani Colpani Per Suslov Suslov cerca il fondo Va sul fondo Suslov In mezzo Esce Musso Ragazzi Utilizziamo la testa Vi prego Non facciamo sì Che prendiamo Un pareggio All'ottanta Al novantaquattresimo No Santo cielo no No La vedo brutta ragazzi La vedo brutta No ragazzi No farebbe male al cuore Questa cosa Farebbe male al cuore Meno male Meno male Meno male Meno male Ragazzi Qui andiamo In istruzioni Bravo Allora Perdita di tempo Spessissimo Passaggi corti E via Ripartiamo noi ragazzi Mancano dieci secondi Antov Kral Butta la alta Antov Butta la alta Butta la alta Non giocarla Antov Sherpen Alta Sul campo Madonna santa Madonna santa Madonna santa No vi prego E' solito FM fare queste bastardate 97esimo Inoltrato No 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 Meno male Meno male Meno male Oh ragazzi Che vittoria Strasudata Però ragazzi L'abbiamo meritata Non rompetti maroni Non rompetti maroni Bracce distese E bravi tutti E questa Ragazzi abbiamo vinto Fuori casa Contro l'Atalanta Che è una rogna Quindi Andiamoci con tranquillità E viviamo Partita per partita E i tifosi Vogliono esporto In via definitiva Però Eh ragazzi Chi c'è i soldi Monza Roma Mai partita Fu più importante Scenderemo in campo Con questi uomini Sherpen Birindelli Antov Zimand Orgu Nastrovilli Kral Pessina Colpani Varsen E Baldanzi Vedete qui Che ci mancano Chire Chire Coppolos Infortunati Scusate Squalificati Sussdolfi Infortunato E vedete Senza tre uomini Quanto siamo corti Ma perché vi dico Mai partita Fu più importante Guardiamo la serie A Se noi dovessimo battere La Roma Andremo a 60 punti Primi in classifica Perché l'Inter Ha perso per 1 a 0 Contro il Napoli Che è settimo E quindi Ragazzi Neanche al tempo Delle otto sorelle Cioè sono veramente Le sette sorelle Più me Eh Quindi sette sorelle Molto concetto Anni 90 Inizio anni 2000 Ragazzi Se vinciamo Contro la Roma Potremmo seriamente Trovarci primi In classifica E non voglio dire Quella parola Che inizia con Scud E finisce con Etto Però Mi sembra Un po' troppo Realistico Ma sarebbe Una delle mie Performance Più folli Su football manager In tutta la mia Te virgolette Carriera Sul gioco Ora però Andiamo a vedere La formazione della Roma E se vinciamo Si mette bene Mourinho Schiera Lui Patricio Mancini Aido Indica Karzor Bove Zalewski Soler Pellegrini Di Bala E Abraham Birindelli Della remessa laterale Per Castrovilli Ancora Birindelli Birindelli in mezzo Non esce Di Patricio Col panipalo Indica Per Bove Bove Per Di Bala Io sto vivendo Queste partite Con troppa ansia Perché comunque Stiamo super Overperformando Bravo Scherpen E finalmente Una parata Vi ho avvicinato Dicevo La sto vivendo Con troppa Anze Devo cominciare A vivermela Con più Leggerezza Perché ragazzi Comunque stiamo facendo Un campionato Allucinante Ok che la dirigenza Ci chiede la qualificazione All'Euroconference Ok che 8 squadre Sono in pochi punti In 7 punti Però ragazzi Siamo al Monza E si infortunia Col pani Per Zeus A questo punto Io provo questa cosa Vignato Seconda punta E Baldanzi Come tequartista Primo tempo Ottimo Devo dire C'è nel senso Niente nuove Buone nuove Quindi stringi pugni I vostri sforzi Mi riempiono d'orgoglio Punizione nostra Baldanzi Traversa ancora Che sfiga Raga Rimessa nostra ancora Bilindelli Per Ringvarsen Castrovilli Si incui in area Tira in porta Palla fuori Io però voglio fare Qualche cambio Allora Mi è nervoso Zima Allora tolgo Kral Anzi Castrovilli E metto Adli Poi 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 Io le avrei anche Ringvarsen E le metterei Esposito Sfrutterei questo Aumento positivo Del giocatore Dell'Inter A livello numerico Stiamo giga Meritando noi Ragazzi C'è assolutamente Allora io faccio così Tolgo Baldanzi E metto Yazici Inoltre Tolgo anche Kral E metto dentro Bondo Esposso Adli Regista Retrato Adli Per Antov Bondo In possesso Palla Bondo Bondo Bravo Per Antov Bondo Giocami Semplice Antov Per Birindelli Palunga Di Birindelli Ma la prendiamo Ancora noi In possesso Ancora nostro Per Esposito Esposito Contro il Patricio Al 77 Più Esposito Ragazzi Altro che Petagnone Altro che Petagnone Al 77 Siamo in vantaggio Per 1 a 0 Ragazzi Non succede Ma se succede Angolo Roma Come non detto Angolo Roma Palla in mezzo Indica Rinviamo Aido Junior Uh Meno male Birindelli In possesso palla Ragazzi Ecco Infatti Indica Per Zarevski C'è nel senso E' vero che Comunque siamo Il monzo Tutto quanto Però il discorso E' quello Bravo Scherpen Il discorso E' questo E' vero che siamo Il monzo Tutto quanto Si bello Però il discorso E' che una volta Che arriviamo A questo punto E' normale Che poi Voglio la vittoria Pretendo la vittoria E' infatti Indica Cipurga Ho parto Troppo presto Raga C'è una volta Che abbiamo Queste statistiche E' normale Che io vado Per la vittoria Eh scusate C'è Fa rodere Il fatto Che comunque Pareggiamo Con un xg Quasi il doppio Per zeus E dopo che abbiamo Tirato molto di più Non importa E Totalmente Però cosa devo dire Pani sui fianchi Avremmo dovuto vincere Manteniamo il morale alto Ripeto Siamo sempre il monza E siamo quarti Siamo quarti Con la Lazio Però che deve ancora giocare In più col Pani Fuori Un mese Signore santo Però cavolo Devo dire che i tifosi Il monza Sono molto pretenziosi Soltanto 7.5 Di Di Gradimento Sette I tifosi Sono soddisfatti La buona forma Di così Tanti giocatori In questo momento Che cacchio volete Ancora un po' Vi sto facendo lottare Per lo scudetto 7.5 Bah La dirigenza invece 10 Il monza Ha segnato Un nuovo record Per la migliore posizione Ma è raggiunta Nella serie A team Quindi nonostante Le sette giornate Ancora da giocare Abbiamo già stabilito Un record Il discorso Che dicono Conti interni Al monza Hanno fatto sapere Che sono determinati A mantenere la forma Per rendere Quanto mai memorabile Questa stagione Sì Verissimo Ma per poter Dare continuità Ci vogliono Investimenti E che la dirigenza Nel frattempo Ho giocato le partite Contro Serenitana E Palermo E sono arrivati 2-2 2-0 Tondi tondi Andiamo a vedere Il 2-0 Contro Serenitana E dopo Andiamo a vedere Come sempre La classifica Perché sta diventando Sempre più corta E una bagara Allucinante Pessine su rigore Batto e Cioa Quindi 1-0 Al quarto minuto Poi Antov Che si propone Nella fase offensiva Per Kila Che larga Per Kila Kopulos In profondità Per Yazici E finalmente Iazici Riesce a segnare Un gol Che non sia Su calcio Di rigore Ora andiamo a vedere Il 2-0 Contro Palermo Comunque Serenitana E Palermo Che al momento Che le affrontate La Serenitana E la quattordicesima E il Palermo Diciottesimo Quindi Due vittorie Contro squadre Di bassa classifica Terracciano Per Iazici Baldanzi Baldanzi Batte Müller Che ha fatto La Andrievata Spessino Intanto Su rigore Ancora Batte Müller Che questa volta Però aveva Intercettato La traiettoria Ora andiamo a vedere La classifica E guardate qui Quanto è corta Noi è vero Che siamo quinti Ma a meno 3 Dall'Inter Perché l'Inter 67 Il derby di Roma Roma e Lazio 66 Milan 65 E Monza 64 Diciamo che ci stiamo Allontanando Dal nono posto Quindi Male che vada Finiremmo Ottavi Sperando un pochino In qualche risultato Ancora Roccambolesco Delle alte Perché Sembra che sia un campionato Stile Quello del Ciopano Chi pareggia Poi vince Poi perde Poi rivince Poi ripareggia E quindi è un casino Allucinante E sì Sarebbe una rosicata Finire ottavi Però Vabbè Ok Ora andiamo a vedere La formazione Scendere in campo Contro la Fiorentina Però Partita importantissima Sherpen Terracciano Antov Hila Dorgu Adli Kral Pessina Yazici Ingvarzen E Baldanzi Dovremmo fare a meno Di tre elementi importanti Come Sposito Colpani E Chiracopulos Quindi siamo sempre molto fortunati noi E siamo veramente sempre Dotti all'osso Ma daremo Il meglio sul campo Italiano invece Schiera Terracciano Cayode Minia Koch Biraghi Amrabat Makuta O Makuta Gonzales Buonaventura Sottile Enzola Una cosa Una cosa che non vi ho detto Che ci hanno consigliato Di fare una riunione Intanto Subito Gol della Viola Al primo minuto Ci hanno consigliato Di fare una riunione Perché Questa partita È importante Per vincere lo Scudetto Io ovviamente Non l'ho fatta Perché Dicendo A una squadra così Mi raccomando Siamo lì Per vincere lo Scudetto Mi sembrerebbe Quanto meno Assurdo Caricare ulteriormente Di responsabilità Una squadra Che tecnicamente Dovrebbe stare Molto più in giù In classifica E quindi Insomma ho detto Non diamo pressioni E facciamoli giocare Liberamente Baldanzi ora Dietro per Kila E purtroppo Devo dire che Ci stanno mancando Gli uomini migliori Nel momento Tra virgolette Peggiore Del campionato Perché Toglierci Esposito Kila Kopulos E Colpani ora Eh Ragazzi Vuol dire Tanto Altri intanto Per Iazici Ubero in Dreaming Iazici Dietro per Antov Abbiamo costruito Un gruppo Eccezionale Qualora mai Dovesse andar via Sarebbe un colpo Al cuore Però ripeto Io voglio Lottare per qualcosa Di serio E non voglio Combattere Contro una dirigenza Che per motivi Anche comprensibili Non vorrebbe investire Ma noi dobbiamo Affrontare Due E tre competizioni Ok Quindi Staremo a vedere Comunque Nico Gonzales Permina Cajode Cajode Ancora Permina Nico Gonzales Stiamo soffrendo sugli esterni Porca trota Buonaventura Si inculina in aria Bravo Dorgu Bravo Iazici Ma palla ancora la viola Sottil Palla alta E qui io faccio Il cambio Solito Del discorso Di passare al 4-3 Il 4-3 con le ali Perché comunque Non Non lo so ragazzi Contro il 4-3-1 Andiamo in difficoltà Se ci schieriamo Con il 4-3-1-2 Angolo per noi Con Iazici Pronto a battere In mezzo Chila Chila batte Terracciano Secondo gol della stagione Per Mario Chila E 1-1 Complessivo All'altrentesimo Ebaldanzi Infortunato Porca vacca Ragazzi Ci stanno Falcidiando Cioè qui Se arriviamo In conference Un miracolo E ragazzi E ragazzi Stringi pugni I vostri sforzi Mi riempiono d'orgoglio Mandagora per buonaventura Bravo d'orgoglio Che però C'è la pallanzola Stiamo scoperti Sulla sinistra Nico González Per Mandragora Mandragora Traversa Terracciano Per Koch Koch Per Mandragora Passa Amina Koch ancora Per Makuta Koch Amina Per Kayode Ragazzi Su 1-1 Però A me quello che preoccupano Sono gli infortuni Ragazzi Cioè già siamo Redotti all'osso E Siamo veramente Redotti all'osso Traversa ancora Della Viola Mamma mia E Cioè Gli infortuni Stanno veramente Falcidiando Anche il raccopolo Sta giocando malino Ma Non abbiamo riserve Sulla sinistra Abbiamo già lo Però Al limite Possiamo mettere lui Comunque Chila Gestisce il pallone E non fare finte Senza senso Adli Allaga per Iazici Diamo sfogo Sulle fasce Iazici Rientra Terracciano Terracciano Per Adli Tenetiro Adli Pai Terracciano Io farei anche dei cambi Però chi cappero mettiamo Chi cappero mettiamo Nervoso Adli E chi metto Castruilli Ok Iazici Mi è morto E chi metto Posso mettere Suslov Pessina E posso mettere Rischio Bondo E va bene Ma anche Ingvarsen Mi è morto Chi metto Nessuno Angolo Viola Biraghi In mezzo Koch Rinviamo noi Sottil Pareggiare questa partita Srebbe molto importante Sottil Tenta il tiro Tenta il tiro Palla fuori Io però Ingvarsen Devo cambiarlo Questo punto Metto Vediamo Vignato come punta Mettiamo come seconda punta Che mi partecipa più Anzi come centro avanti Che me lo consiglia qui Va bene E tolgo Ingvarsen E metto dentro Jalò Spostando Dorgu Avanti E che cacchio devo fare E Jalò Lo metto come Terzino senza fronte A difesa Bondò Per Antov Che scambia con Gila Gila gestisce il pallone Dorgu ora Palla avanti Per se stesso Perché lui sarebbe Tutto da essere in avanti Duncan Duncan avanza col pallone In fronte per Buonaventura Beltran Fuori gioco nettissimo E alla fine raga Con le unghie Con i denti Con XG Che è un terzo Di quadra fiorentina Con tiri in porta Molto inferiori 1 a 1 1 a 1 Braccia distese Risultato soddisfacente Raga E Probabilmente La situazione Quella di prima E quella di prima Sempre Siamo a più 7 Dalla Juve Che ha fatto la Juventus Mi pare che abbia pareggiato Forse Boh Non ricordo Però questo più 7 Sulla Juve Ci rendono un po' Forse un pochino Più tranquilli Contando che mancano Soltanto 5 giornate Al fine del campionato E intanto Possiamo quasi dire Di abbaldarsi Per questa stagione Evviva Ah no Addirittura La Juventus Ha perso Contro Nella Sverona Quindi vediamo L'Inter Che perde contro Bologna La Roma Che pareggia Contro il Cagliari In casa E la Juve Che perde Minchia Qui siamo A meno 2 Adesso Potenzialmente Dal titolo Mancano soltanto 4 giornate Alla fine del campionato Diciamo 3 Perché noi Dobbiamo giocare Il posticipo Qui insomma Manca veramente Poco Abbiamo vinto 3-1 Contro Udinese Una squadra Che insieme al Cagliari Ci ha sempre dato Grossi grattacapi In questo caso Abbiamo pienamente Meditato la vittoria Per un discorso Anche di numeri Vediamo appunto i gol Chiracopoulos Per Vignatore Spinge la difesa Udinese Ora Rinvia Silvestri Tenta di rinviare Silvestri Fa un paperone Esposito La mette dentro Un esposito Veramente In condizione A numeri Fantastici E si sta rivelando Veramente Un grandissimo Wonderkill Vedete anche qui Uno contro uno Con Silvestri E un Cecchino Assoluto Tenerlo Molto 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 difficile Anche perché dopo Andremo a vedere La classifica Prima della partita Contro Napoli Qui Esposito Per De Lofeo Che batte Sherpen Per il gol Del 3-1 E devo dire Che Sherpen Ragazzi Sta rendendo Tanto 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 Di più Rispetto Ad Andreev Qui Rispinge Malissimo Difesa Udinese E Hila Batte Silvestri Con un colpo Di testa Ora andiamo a vedere La formazione Scendere in campo Contro Napoli No scusate Aiuto Che sarà la seguente Sherpen Birindelli Antov Hila Chiracopulos Castrovilli Kral Pessina Colpani Varsen Vignato Ci manca soltanto Baldanzi fondamentalmente Che rimanca una settimana Prima di rientrare Quindi per la fine del campionato Per l'ultima parte del campionato Ce l'avremo Ora però andiamo a vedere La formazione De Partenopei Valverde Schiera Meretti Lorenzo Rachmani Jesus Olivera Lobot Canghissà Pepe Zelinski Kvaracelia E Raspadori Juan Jesus Per Olivera Ora Zelinski In possesso Palla Allarga Per Kvaracelia Però entra in possesso Noi Castrovilli In profondità Per Ingvarsen Arriverà per primo Il danese No Rachmani Per Anghissà Uuuuh Che erroraccio Di Anghissà Mamma mia E qui però Io a questo punto Tattica Vado sempre a mettermi così Copro meglio il campo E via Funzioni del Napoli Da tre quarti campo O meglio Da centrocampo Leggamente Quaracelia Per Anghissà Ora Quaracelia Tirala fuori Quaracelia Sì Uuuuh Ragazzi Paro del Napoli Ripartiamo noi dal basso Scherpen Per Kila Alla raga Per Kila Copulos Vignato ora Non perde il palla Vignato Pessina Pessina Per Kila Copulos Che perde palla Ma Kila Recupera Krall In profondità Benissimo Marachmani Ancora Anticipa tutti Però Allarga malissimo Per Vignato In profondità Per Ingvarsen Ingvarsen Madonna Che gol Pallonetto Sumeretti Di sinistro Da posizione Impossibile E spero che non sia fuori gioco Perché il gol è bellissimo Ma non penso che lo sia Infatti Rete concessa E vai Meret Andrà sul lungo Andrà sul breve Sul breve Per Lobotka 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 è che fa un altro erroraccio Ma questa volta però Meret salva Peccato E come diceva Luca Dirisio Ci vuole calma E sangue freddo Braccia distese Stai giocando Sordineramente bene Punizione per noi Colpani Tenta al tiro Tenta al tiro Palla alta Io però adesso Faccio qualche istituzione Gioco forza Allora Kral lo tolgo Perché mi ha munito E via Ora però c'è anche Pessina Veramente Cotto E metto dentro Suslov Come mezzala Zemura Per Pepe Pepe dietro per Ndombele Ndombele in profondità Per Anghissà Però mi sembrava fuori gioco Anche questa volta E infatti Anche questa volta Rete annullata Io ragazzi Faccio gli ultimi cambi Perché qui Altri uomini Si stanno Stanno venendo in campo Allora Tolgo Castrovilli E metto Bondo Tolgo Colpani E metto dentro I azici Rimessa per noi Birindelli Per Adli Ancora Birindelli Giochiamolo intelligentemente Per Sherpen Bondo In gestione palla Per Gila Adli Per Suslov Beh questa volta Facciamo l'erroraccio noi Bel gol di Carboni Ragazzi Testa Rimessa Napoli Non facciamo ciuccellare In questo modo Ah signore santo Zemure per Cuaracelia Di Lorenzo E te pareva Per Zeus Per Zeus Di Lorenzo Rinvia Malerrimo Malerrimo Rinvia Di Lorenzo Per Suslov In mezzo per Ingvarzen Oh no Contropiede Napoli No contropiede Napoli No ragazzi Al 95esimo no eh Al 95esimo no 3 a 2 Napoli Al 95esimo Stavamo vincendo Per 2 a 0 Mamma mia Però ragazzi Cosa vogliamo dire Sì rode 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 quanto Quanto Cioè abbiamo Minchia Abbiamo preso 2 gol Dopo il 90esimo 2 gol Dopo il 90esimo Mani sui fianchi Non c'è favorevole E via Dopo l'ultima sconfitta Ho giocato offline Le partite contro Ellas e Bologna Partita contro Ellas Veramente sofferta Andiamo a vedere Adesso i gol Contro Appunto i Veronesi E il Bologna E poi Vediamo la classifica Perché vedremo L'ultima partita Dell'episodio E di questa Seconda stagione Alla guida Del Monza Ora vediamo i gol Contro l'Ellas Ripeto Partita Dominata Ma Vinta All'ultimo Infatti Poi vedremo Insomma Intanto va in vantaggio Il Verona Con Scichigno Che Conduce la parla Sua sinistra E Di Mariano Che la mette dentro Va bene Di Mariano Ok Poi il nostro pareggio Con Birindelli Per Castrovilli Castrovilli In profondità Per Vignato In Varsen Una bella coppia Attacco E di sinistro Batte Berardi In Varsen Che è cresciuto Esponenzialmente Poi Il vantaggio nostro Vignato Che Si gioca Il match con Coppola Cral per Castrovilli Castrovilli Batte Berardi Con un tocco Di biliardo Di conseguenza Il pareggio del Verona Di Mariano Per Onglà Il gol Della domenica Di Onglà E una delle poche E di XG Insomma Veramente Tanto superiore In Varsen Sulla destra Dribbla Calafiori In Varsen Si inculina in aria Per Vignato Che di testa La butta dentro Veramente Una coppia Molto simile A tre seghe Del Piero Poi Il 2-0 nostro Con Birindelli Birindelli Che scarta Sulla fascia Passi In Varsen Che sfrutta Gli spazi Ancora In Varsen Per Vignato E Vignato La butta dentro E dopo Il 3-0 nostro Nel tempo di recupero Insomma Antov Dalla distanza Veramente Ragazzi Antov e Hila Una coppia difensiva Devastante E andiamo a vedere La classifica Purtroppo La sconfitta Contro Napoli Ci ha condizionato Un po' Perché avremmo Potuto Rottare Per lo scudetto Che potremmo Ancora Rottare Salvo I Baltoni Ma Questo è quanto Quindi Siamo Ad ora terzi Qualificati Matematicamente Per l'Europa League E qui appunto Andiamo a vedere Ovviamente Questo è Appena finita La partita Contro il Bologna Quindi Mandolvice Do l'argomento Sariale Il Monza Si qualifica Per l'Europa League E ora L'ultima partita Penso che basti Soltanto Un punto Per qualificarci Anche Alla Champions League Dopo Sono curioso Di sapere Un eventuale Budget E poi Insomma Vedremo Per il futuro E la cosa Che fa Rodere E che Napoli Ha perso Una zero Contra Atalanta Quindi noi Se avessimo avuto Tre punti in più Saremmo stati Probabilmente A pari col Milan Ma ora Stiamo a vedere Quelli che fanno Le milanesi La dirigenza Fissa Il budget iniziale Ragazzi Questa cifra 2.49 milioni Con Un budget in gaggi Che è simile A quello di ora Forse Addirittura Un po' Un po' Inferiore Come faccio A fare la squadra Per tre competizioni Raga A me sta cosa Non va giù A me sta cosa Non va giù Perché Dopo una Quasi vittorio Di uno scudetto Per dire 2.49 milioni Per sopravvivere E fare mercato Vuol dire Che dovremmo Cedere I migliori Quindi Castroviglia Ad esempio Per prendere Uno che ti costa Ancora di meno Il mercato A zero Non ci sono Grosse occasioni Anche perché Non abbiamo Purtroppo Questo appeal Dovremmo Costruirlo Almeno in Altri due Tre anni Qualificandoci Per la champions E dovremmo Cedere altri Ad esempio Magari sacrificare Uno tra Vignato Ad esempio E lo dovremmo Sacrificare A una cifra Neanche altissima Per poi Rifar mercato Ragazzi Io penso Che Dirò Dio al Monza Ma Non perché Non Mi piaccia Il progetto Semplicemente Perché Non Non è Gestibile Generalisticamente Non è gestibile Con questi pochi soldi Fare champions E campionato Rischi di perdere In champions Per Gestire Per il campionato E questa cosa Onestamente Poco mi sta bene Io non dico niente Prima della fine Del campionato Quindi vado avanti Così Vediamo di qualificarci Per la champions Cercando di vincere Contro sul Tirol Ma poi Penso di Fartela Da Monza Raccoglierò La gloria E poi O me ne andrò O vediamo Il Napoli Il Napoli Che sicuramente Avrà più entrate Quasi quasi Il Napoli Avrà sicuramente Più finanze Perché purtroppo È quello il discorso Raga Cioè Non è il discorso Di fare Di entrare in un ristorante Da 100 euro Quando ne hai tre Però Dobbiamo vedere Anche per il futuro Non è che Il Il Napoli Però A Bardagi A Quaracelia A Raspadori A comunque Mattias Oliveira Che è tutto E tra le che vecchio A Caprini A Meret Bissec Cos'è in prestito? No L'acquistato A Bissec Giocatore che abbiamo Seguito per tempo A Jeler Tazzemura Che abbiamo seguito Anche al Monza Secondo me qui Con un buon mercato Si può fare qualcosa Di interessante Eventualmente A Elmas A Elmas Che però Andrà via zero E No Elmas a via zero È una follia È perché Prende una paccata Perché se no Prende neanche al Monza Faccio una cosa Io A Napoli Il curriculum Lo mando Quindi Richiedo l'incarico E avanti così E poi vediamo E questa è la formazione Migliore Che possiamo schierare Per l'ultimo Di campionato Contro Sud Tirol Cerpen, Birindelli, Antov, Hila, Chiracopulos, Castrovilli, Kral, Pessina, Colpani, Ingvarsen E Vignato Ora Ci andiamo in campo E vediamo la formazione Ovviamente Del Sud Tirol E dopo E dopo faremo Tutte le votazioni Per il futuro Ovviamente Non in questo episodio Bisoli comunque Schiera Mitriushkin Tait Cuomo Giorgini Davis Severina Lonardi Bertagnoli Della Morte Lanzarotti E Merkai Giorgini Per Della Morte Merkai Brutto intervento Di Antov Fuori tempo Bertagnoli Batte Sherpen Angolo per noi Chiracopulos In mezzo Vi spinge a difesa Del Del Sud Tirol Ingvarsen Ingvarsen Pareggio Diciassettesimo Gol Della stagione Per il danese Antov Gestisce il pallone Per Kral Kral ancora per Antov Il Sud Tirol è un po' sfilacciato Ma noi sbagliamo E gli concediamo il pallone Santo cielo Severina Per Tait Tait Tenta al tiro Palla fuori Rimessa nostra Chiracopulos Per Vignato Protegge palla Il giovane giocatore del Monza Kral Per Castrovillino Castrovillino ancora per Kral Alaga per Binindelli Dieto per Antov Cerchiamo gli spazi Binindelli per Castrovilli Castrovilli Palla fuori Rimessa del Sud Tirol Per Della Morte Palla Severina Meno male Ragazzuoli cosa vogliamo Far far punte al Sud Tirol Che non vince Da 10 O meglio che perde 10 partite Però io vedo Allora Chiracopulos Sta giocando Da schifio E metto Dorgu E tolgo anche Kral che ha munito E metto Adli Punizione Sud Tirol In mezzo Le spingiamo noi Forse Severina Madonna mia Madonna mia Madonna mia Santa Madonna mia Santa Allora Io faccio così Che sta facendo schifo A centrocampo Pessina Metto così Vado così Tolgo Pessina E metto dentro Iazici E vado anche In offensiva Bilindella Rimessa Per Colpani In Varsen Ui di Trivela Ciao Di Trivela Di Trivela Minchia Anche Colpani Sta facendo schifo In quest'ultima di campionato Mamma mia Colpani fuori E metto Suslov Partiamo dal basso Mario Chila Per Dorgu Ha un po' di spazio Il danese Dorgu Si accentra Per In Varsen In Varsen Allarga bene Per Vignato Vignato Che farà Sfruttare la profondità Dal compagno Sì Per Suslov Suslov Che controlla il pallone E In Varsen La mette dentro E vai così Diciottesimo gol Per l'altro danese Rimessa ancora Sutton Mamma mia Però Prendiamo il possesso Noi Con Adli Per Vignato Contro Piedone Contro Piedone No Sì Forse sì Esattamente Dorgu Con la sua velocità Clamorosa Dorgu Si accentra Prova il tiro In porta Fuori Chila Per Suslov Suslov Per Iazzici Iazzici Ancora per Suslov Uuu Errore da difesa Del Monza Vignato Si incuni in area Traversa Te pareva Castrovilli Però Parata Mitruskin Cioè Non ha preso niente Mitruskin Negli ultimi giornate Però Conto di noi Sta a far Il fenomeno Siamo all'ottantanovesimo Quasi novantesimo Birindelli Per Ingvarsen Ancora Birindelli In mezzo per Suslov E Suslov Batte Mitruskin Al novantesimo Esattamente Anzi Ottantanovesimo Appunto Sta per scoccare Il novantesimo Tra due per noi Anche in questo caso Giornata Partita difficilissima Vinta all'ultimo Però ragazzi Tre a due Quindi spogliatoio Braccia distese Molto bene Ora Vediamo La classifica Completa Siamo terzi Siamo arrivati Terzi Record A 77 punti Abbiamo sopravanzato A Roma Siamo arrivati Avanti La Fiorentina Lazio Juventus Ragazzi Ora vediamo Cosa Ci riserverà Il futuro Perché comunque Abbiamo inviato Il curriculum A Napoli E ripeto A me la cosa Che non Che lascio Un pochino Stupito È il fatto Di questa Di questi pochi Investimenti Era è colpa Il monso Capito Di questi pochi Investimenti Perché Non possiamo Ripeto Affrontare Tre competizioni Contanto che c'è anche La Coppa Italia Che comunque schifo Non fa Ed è anche un pass Per l'Europa Con questo poco budget E dovendo smantellare Una squadra Tipo Cendendo Vignato Questo qui Per finanziarci Un mercato A ribasso Inoltre Il Lizza Per il Il premio Per il miglior allenatore Infatti qui Vediamo che C'è Inzaghi Ancelotti E noi Io però Da buon bastardo Voto Vice Che probabilmente È quello Che ha ricevuto Che ha fatto Meno vittorie E qui Il riepilogo Di fine campionato Quindi abbiamo fatto Una stagione fantastica Media voto Più alta Esposito Ingvarsen E gemello 7 Ma dove Gemello 7 Che ha preso Gol su gol Vabbè comunque Quindi comunque Anche Sherpen Quello che ha giocato Ha fatto benino Meglio di Andriev Meglio di Andriev Devo dire Terzi in classifica Ovviamente Miglior vittoria 6-0 Su Tirol Poi Partire da ricordare L'1-3 Contro Il Contro Il Torino E poi Gol dell'anno Quello di Ingvarsen Contro La Roma Come finanze Vedete qui Entrate Trasmissioni TV Addirittura In passivo O meglio In perdita Di 500.000 euro Rispetto alla scorsa stagione Le magliette più vendute Pessina Adli Castrovilli Ingvarsen Colpani E vorrei Anche vedere Formazione di tipo Fondamentalmente La nostra formazione di tipo Quindi quella che ha reso Di più di tutti I conoscimenti Premi d'attore dell'anno Non penso che siamo stati Eletti così Ma guardate Quanti Ingvarsen Per i tifosi Acquisto dell'anno Gol dell'anno Capo cannoniere Più volte uomo partita E Numero Delle volte Insomma Che ha ricevuto Il premio di Uomo partita Assist 10 Castrovilli Veramente Tanta 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 roba Una volta che il Monza Ha cominciato a fare sul serio Nella fase centrale Della stagione Sembrato che nessuno Potesse intromettersi Marco Scarano Di calcio libero Il Monza Iniziato ad accelerare A metà di una stagione Che si può definire Straordinaria Fabio Rizio Da calciomercato.com E come Dargli torto Ora Noi abbiamo Finito Una seconda stagione Clamorosa Qualificandoci per La Champions League E ora Stiamo a vedere Per il futuro Ovviamente Il tutto Lo vedremo Nel prossimo episodio Vi mando un abbraccione E ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Grazie 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 a tutti.